Ben trovati al TG Sordi di Lecce 7 Blitz dei NAS nei centri di medicina estetica di tutta Italia Denunciato il direttore sanitario di un ambulatorio di Lecce Dove sono stati rinvenuti e sequestrati medicinali scaduti e con l'indicazione ad uso ospedaliero, pertanto illegalmente detenuto La moto sbanda e finisce in una scarpata, muore 29enne L'incidente è avvenuto domenica in Trentino Barbara De Donatis viveva in provincia di Brescia con la famiglia originaria di Alezio Novità da tenere presente per gli automobilisti Questi pronti due tovelox sulla Brindisi Lecce Le due postazioni sono attivate dal comune di Trepuzzi e sono entrate in funzione nella notte tra il 23 e il 24 maggio Si tratta di postazioni fisse operanti 24 ore su 24 Stop a pancia scoperte e pantaloncini corti La preside del liceo Banzi di Lecce con una circolare chiede abbigliamento decoroso a scuola Nessuna censura spiega si tratta di rispetto per i luoghi Ombrelloni più cari Mentre si arriva addirittura ai 60 euro per il mese di agosto Sarà ancora Marco Baroni a guidare il Lecce nella prossima stagione di Serie A La società e il tecnico hanno trovato l'accordo per portare la nuova scadenza del contratto fino al termine della stagione 2022-2023 Grazie a tutti